Non solo Casarano Lavello, anticipo del sabato, il 25esimo turno del Gironi H di Serie D ha tutti gli ingredienti per emozionare i numerosi tifosi della quarta serie nazionale. Intanto spicca alle 14.30 il derby del Curlo, dove il Fasano affronterà il Bitonto. I padroni di casa hanno perso la terza piazza, mentre gli ospiti hanno perso la vetta della classifica. Sembra scontato che il pareggio non accontenterebbe nessuna delle due, anche perché il Cirignola e il Francavela Insigni sembrano lanciatissime. L'ultima domenica di febbraio vedrà un altro derby tuttopugliese, quello del Ventura tra il Biceglie e la Capolistagnola. La vittoria Last Minute, conquistata contro il Gravina, consente a Strambelli e compagni di mantenere la corona in solitaria. Compito dei Nerazzurro Stellati complicare il cammino, anche perché la classifica degli uomini di Cazzarò non è proprio tranquilla. Antipasto play-off è quello tra Gravina e Casertana. I Murgiani hanno il compito di tenere a debita distanza Favette e compagnia, ma anche la Nocirina vuole entrare nel calderone promozione. I campani giocheranno in casa del nostro Nardò. A Arduo è il compito del Molfetta, che ospita il Francavilla di Ragno, altro derby pugliese, e quello tra la team Altamura e il Matino. La squadra salentina si gioca le ultime fisce salvezza. Obiettivo, invece, è la portata del Brindisi, lontana 5 lunghezze della salvezza diretta. Una scalata che potrebbe iniziare proprio dalla trasferta di San Giorgio a Cremano.